Come è cambiata la squadra rispetto allo scorso anno? Pochi giocatori, soltanto sostanzialmente Andersen e Summers, ma cambia il sistema, forse più palla sotto, più gioco dentro, un gioco d'Aerolega forse? Ancora presto da dire, però noi vogliamo avere tante scelte, come sempre per giocare più, per usare tutte le armi, però loro sono molto talentuosi, molto bravi giocatori che dobbiamo usare in ogni modo. Spero che non cambierà tanto in generale, però io credo che loro possano aumentare il nostro livello di gioco rispetto all'anno scorso. Tanta esperienza in questa Montepaschi, la sesta Erolega in fila per te, per Sean, per Carraretto, per Ress, McCaleb ha fatto due Final Four, conosciamo Zisis ovviamente e Andersen cosa hanno fatto, potrà essere questo un vostro punto di forza? Sicuro, però anche dobbiamo ricordare che altre squadre hanno giocatori esperti e fanno tutto per migliorare. Noi dobbiamo ricordare che abbiamo giocatori esperti, però il lavoro, allenamento è chiave per avere la stagione buona, la stagione vincente.